Marco Chioccini, responsabile di Perla di Calabria. Perla di Calabria è un nome che nasconde che cosa? Che cosa è la Perla della Calabria? La Perla di Calabria è un prodotto artigianale che ricorda gli antichi valori della terra di Calabria e tutte le lavorazioni che ci facevano un tempo noi le usiamo ancora. Noi lavoriamo il limone, il mandarino, la limetta che è un agrume che è un contrasto tra il limone e il bergamotto che cresce solo in Calabria e anche in via di estinzione. In più lavoriamo anche l'alloro e il finocchietto selvatico che sono prodotti che crescono naturali. Abbiamo anche la liquirizia che diciamo che è il nostro punto forte anche perché quella nasce naturale nel nostro territorio viene raccolta dai contadini, viene lavorata in stabilimenti, trattata in polvere e poi noi lavoriamo il liquore.